Scampia prova a ripartire, a superare lo shock dopo l'ennesimo omicidio di Camorra messo a segno, questa volta addirittura davanti a un asilo, senza alcun riguardo per l'incolumità dei bambini intenti a imparare i canti di Natale. Quello compreso tra Scampia, Miano, Secondigliano e Chiaiano è un territorio martorizzato e precipitato nel terrore dalla faida di Camorra tra gli scissionisti e di Lauro per il controllo delle piazze di spaccio. Il decano del comprensorio, Don Francesco Minervino, fa appello alla fede e al senso di appartenenza al territorio per trovare le forze di reagire. La Camorra ormai regna in perversi in tutte le sue realtà, anche quelle più emblematiche, allora ecco che diventa una forza che non possiamo come realtà ecclesiale trascurare. In questo mi sento anche di dire che questa è anche la forza di quell'etichetta che tante volte a noi non piace dell'anticamorra, questa è l'anticamorra, quella di dare forza e di rafforzare quelle radici sane che sono presenti in questo nostro territorio. Lo spirito però da solo non è sufficiente contro le pallottole, così il presidente dell'ottava municipalità Angelo Pisani ha scritto al ministro degli interni Anna Maria Cancellieri, al sindaco di Napoli Luigi De Magistris e alla regione Campania chiedendo interventi concreti come telecamere per la videosorveglianza e presidi delle forze dell'ordine davanti a scuole e uffici per migliorare la sicurezza nel quartiere.